Salve a tutti. Avrei preferito non montare questo video, ma visto che alcuni di voi mi hanno chiesto cosa ne penso dell'ultimo aggiornamento di No Man's Sky, beh, eccovi la risposta. Anche stavolta vi sorprenderò, facendo come dopo pochi giorni dal lancio di questo titolo il bastian contrario. Per me l'aggiornamento Beyond è una merda. Per essere chiari. Mentre il gioco in se rimane assolutamente valido, ritengo assolutamente insufficiente e sbagliato quanto fatto da Hello Games negli ultimi due aggiornamenti. Il No Man's Sky Beyond che state vedendo ora a schermo è stato creato con una mod che aggiunge nuovi componenti al paesaggio e mescola quelli di diversi biomi per creare mondi più vari. In quanti non vorrebbero vedere il gioco vanilla in questo modo invece, per dire, di cavalcare gli animali o poter ammazzare gente a caso in multiplayer? Hello Games sta trasformando il No Man's Sky esplorativo nell'ennesimo sandbox e nel clone di Star City Zen. Se avrò ragione sul fatto che Star City Zen non uscirà mai, e che quindi No Man's Sky si prenderà la sua fetta di mercato, sono comunque estremamente deluso dal fatto che invece di arricchire di bellezza i mondi di gioco, si potenzino queste meccaniche ormai trite e ritrite. Da notare inoltre che poco dopo l'uscita di Beyond su Reddit molti fan del gioco hanno descritto il loro aggiornamento ideale, e indovinate cosa hanno chiesto come prima cosa? Esatto. Mondi più vari. Quindi, caro Hello Games, torna ad ascoltare i tuoi fan più accanniti invece dei bimbi minchia ed inizia a darti da fare. Non ci vuole molto a migliorare il titolo con un mini aggiornamento ufficiale che mescola gli asset di vari biomi e ne aggiunge di nuovi come fa questa mod. Inoltre gradirei che la modalità creativa sia davvero creativa. Quindi tutto gratis, jetpack infinito per muoversi meglio come su Minecraft e possibilità di raggiungere velocemente ogni zona della galassia di Euclide per unirsi agli hub degli altri giocatori che vogliono esplorare con te senza combattere o avere altre rotture di coglioni. Questo vuol dire che deve essere possibile per un giocatore in creativa potersi unire a partite anche di giocatori in altre modalità, magari disabilitando il combattimento e l'inventario per impedire griffing e truffe agli altri giocatori. Anche il VR non è in realtà una gran novità, dato che io ed altri su PC riuscivamo già ad usarlo, come vi avevo mostrato nella recensione della P.D.T. Atlas Races. L'altra rottura di balle di Beyond è che per parecchio tempo ha reso per me ingiocabile il gioco, dato che le mod che modificavano i biomi nel precedente aggiornamento dopo il lancio di Beyond erano incompatibili. In descrizione trovate la mod che ho utilizzato in questo video. Purtroppo ormai pochi su YouTube girano Cinematics di No Man's Sky ed il migliore fra noi che le faceva, Eric Guy 2, ormai ha abbandonato. Credo che io riprenderò a girarne qualcuna appena possibile. Arrivederci alla prossima.